benvenuta e benvenuto a lezione con sento che posso nella playlist dedicata alle lezioni di antropologia culturale se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornate aggiornato sui video che verranno pubblicati ti invito in oltre a seguire sento che posso sui canali social facebook instagram e twitter in questa video lezione che fa parte di questa serie di lezione dedicata alle relazioni di parentela parleremo di matrimonio tra gli aspetti significativi relativi proprio al tema della parentela la dimensione dell'alleanza o dell'affinità assume una particolare importanza e questa dimensione coincide con i legami contratti da un individuo con altri attraverso l'istituzione del matrimonio il matrimonio è una forma socialmente riconosciuta di unione attraverso la quale un individuo entra in relazione di alleanza con altri individui ed è una forma che non riguarda solo gli individui direttamente interessati grazie al matrimonio la riproduzione umana viene culturalmente e socialmente disciplinata il matrimonio stabilisce i criteri di legittimità di un'unione che ha come scopo la riproduzione degli esseri umani e la loro destinazione questo comporta l'attivazione di norme procedure e sanzioni che nella maggior parte dei casi hanno per oggetto il controllo delle capacità riproduttive degli individui di sesso femminile le forme di matrimonio che possiamo individuare sono essenzialmente tre il matrimonio monogamico cioè tra due individui poliginico cioè tra un uomo e più donne o poliandrico tra una donna e più uomini su questo tema possiamo individuare altre forme altri modelli che possiamo anche un po etichettare come delle curiosità antropologiche c'è un modello una forma che viene chiamata levierato e che il costume in base a cui la moglie di un defunto andava in sposa al fratello di quest'ultimo che diventava quindi tutore della donna e della sua prole il corrispondente è il sororato cioè il costume di dare in moglie ad un uomo rimasto vedovo la sorella della moglie defunta soprattutto se questa è morta senza prole lo scopo di questa unione è quella di rimpiazzare le facoltà riproduttive della donna scomparsa a vantaggio del gruppo del marito l'epiclerato presente nell'antica grecia prevedeva che un uomo sposato senza figli maschi ma con figlie e femmine potesse unire una di queste con un uomo e diventare a tutti gli effetti il padre del figlio della figlia. Presso i Nuwer del Sudan poi è presente la pratica del matrimonio con il fantasma essendo una società patrilineare avere dei figli specialmente maschi è per un uomo un fattore di estrema importanza si ritiene quindi opportuno procurare ad un uomo dei figli anche qualora lui muoia prima di avere della prole quindi un uomo del gruppo di discendenza del defunto di solito un fratello un cugino contrae il matrimonio con una donna a nome dello scomparso in modo che i figli che nascono siano considerati figli del defunto. Presso l'Igbo della Nigeria è poi presente il matrimonio tra donne ma attenzione non ha lo scopo di sanzionare rapporti di tipo omosessuale ma risponde alla necessità avvertita dalle donne di avere dei figli se il marito è sterile le donne ricorrono in accordo con il marito all'adulterio ma se sterile è la donna questa può divorziare ed è viene considerata poi come un uomo a quel punto può contrarre matrimonio con un'altra donna scegliere un uomo a sua discrezione farlo unire con la moglie di diritto i figli che nascono sono figli di legittimi della donna marito. Il matrimonio come abbiamo già detto è un atto che legalizza un rapporto sessuale da cui possono nascere dei figli che vengono ritenuti legittimi alle diverse forme di matrimonio corrispondono altre tante forme di costituzione di ciò che noi chiamiamo famiglia di solito la famiglia composta dai coniugi dalla prole viene chiamata famiglia nucleare essa esiste quasi sempre nel contesto della famiglia estesa costituita dagli individui appartenenti a tre generazioni e che formano con l'aggiunta di altri elementi schiavi prestatori di lavoro servi un gruppo domestico. Un gruppo domestico è un insieme di individui che vivono insieme contribuendo allo svolgimento delle attività di sussistenza di comune interesse ma anche all'adempimento di certi rituali. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto clicca sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati se il video ti è servito ti è piaciuto metti un like condividilo con tutti coloro che pensi possano essere interessati al tema delle scienze umane seguimi sui social e aiutami a far crescere il canale ciao